Ciao a tutti, eccoci qua. Faccio questo breve video perché ci tengo veramente tanto a spiegarvi le proprietà, le qualità di questo gel d'aloe che è la base praticamente di tutti i nostri prodotti. Tanti di voi mi chiedono, Jasmine, il gel d'aloe è molto buono, ormai è riconosciuto sia nelle case farmaceutiche che nei prodotti cosmetici, eccetera, tante volte usano, addirittura anche dei detersivi adesso, usano spesso e volentieri l'aloe vera per le sue proprietà curative, lenitive, eccetera, eccetera, eccetera. Perché però scegliere il nostro gel d'aloe e non quello degli altri? E qua cade l'asimo. Allora, la qualità, la qualità della Forever è indiscutibile, la Forever è proprietaria di tutte le sue coltivazioni, i suoi laboratori, i suoi edifici, questa è una sicurezza sia per il cliente, sia per il distributore per poterci lavorare. Questo è un piccolo depliant, vi faccio solo vedere qualche pagina perché sono molto belle, sono molto bellissime, belle queste foto. Vedete, queste sono le nostre coltivazioni, come vengono lavorate. Per farvi capire, le nostre coltivazioni vengono ancora fertilizzate senza appunto fertilizzanti, pesticidi, praticamente lasciano ancora le caprette, le caprette in giro a mangiare le erbacce e poi fertilizzano naturalmente, ci siamo capiti, come appunto facevano i nostri nonni qualche anno fa. Addirittura per avere più qualità ancora, Rex Morgan ha comprato i cieli delle coltivazioni per vietare, quindi gli aerei di volare in quella zona e inquinare con il gas di scarico di terreni. La qualità appunto è la base di tutto per la Forever. Questo gel di aloe, sono 118 ml e costa 24 franchi e 25. In molti appunto mi hanno detto, ce ne sono tantissimi in commercio, costano di più, costano di meno e tanti mi chiedono la differenza. Allora, io qua voglio appunto fare una piccola parentesi, che ci tengo veramente tanto a dirlo. Un prodotto per essere sul mercato, ma io parlo non di un network come appunto Forever, che va dal distributore al cliente o comunque dalla ditta al cliente, io parlo sempre di un prodotto normale, ricordiamoci quanti costi ci sono dietro a un singolo prodotto. Magari uno non ci pensa, compra il dentifragio di turno, il sapone di turno, dice cavoli, vabbè, lo compro e basta. Però il cliente è quello che si assume tutti i costi del prodotto. Quindi se un prodotto vi costa poco, ricordate che comunque la ditta ha dovuto spendere soldi per l'imballaggio, per, si spera, per il controllo di qualità, per farlo mettere in quel magazzino, c'è lo stipendio anche dell'impiegato, quant'altro, tutti questi costi vanno al cliente finale che acquista il prodotto, per poter appunto assumersi i costi e avere anche un'entrata. Quindi io dico sempre, mi chiedo, se un prodotto già costa pochissimo, la qualità potrebbe essere buona secondo voi? Secondo me no. Per farvi un esempio, questo gel di aloe vera costa appunto 24 franchi e 25. Adesso io la butto là così perché appunto non sono né un economista né un responsabile di marketing, ma se dovesse essere, per farvi capire, visto la grande qualità del prodotto su un supermercato che non succederà mai o comunque in un negozio specializzato, tipo una farmacia così, verrebbe sui 32, 34, magari 35 franchi. Ecco lì il cliente dice, cao 35 franchi è buono, cioè è buono, è caro, è buono perché è in farmacia, però è caro, capite la contraddizione delle persone. E quindi è veramente per me importante dirvi questo. La Forever vuole poter dare alle persone dei prodotti di ottima qualità ad un prezzo sostenibile, comunque un prezzo possibile un po' per tutti. Questa proprio è l'idea della Forever, dare accessibilità a tutti dei prodotti di qualità ottimi ad un prezzo giusto. Perché ripeto, una qualità del genere la si trova magari anche solo in farmacia, ma la si paga anche il doppio, il triplo proprio per le cose che ho detto prima, quindi appunto per l'imballaggio, per le spese. Pensiamo quanto spendono le grandi multinazionali per la pubblicità. Una volta mi ero informata, uno spot di 15 secondi che aveva magari tre volte al giorno costava migliaia e migliaia, se non centinaia di migliaia di franchi. Io parlo di Svizzera, poi l'Italia lascia un po' perdere, il mondo può lasciar un po' perdere. Quindi per farvi capire quanto spendono e questi costi da qualche parte li devono tirar fuori. E dove tirano fuori? Dal prodotto finale. Con Forever questo non accade, si ha la qualità ad un prezzo giusto. Quindi è per questo che questo tubettino, questo fantastico gel di aloe vera, costa 24, però anche 25, per le cose che vi ho spiegato prima, per la qualità, per il sigile di qualità, infatti Forever garantisce anche i 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Attualmente non mi è mai capitato che un cliente mi tornasse a dire Jasmine non mi sono trovata bene, mai dire mai, però in due anni non mi è mai capitato che un gel non mi sono trovata bene, il gel non è di qualità buona, anche perché lo sappiamo che è di qualità ottima, eccetera, eccetera. Niente, questo breve video era veramente solo per farvi rendere attenti a questa cosa, quindi quando comprate un prodotto, ma che sia un gel d'aloe, io vi parlo del gel d'aloe perché ormai, ripeto, ce l'hanno in tutte le salse, in tutte le ditte, in tutte le farmacie, in tutte, cioè veramente ovunque, dove vi girate c'è gel d'aloe, gel d'aloe, gel d'aloe, quindi uno non capisce più niente, è per questo che io parlo di questo, ma come di questo io parlo del dentifricio, del sapone, del shampoo per i capelli, cioè io potrei stare qua una giornata a spiegarmi i nostri prodotti. Questa è la base, punto di tutto, e questa è la base che la gente mi chiede, la motivazione, e ci tenevo veramente tanto, tanto a spiegarvi il perché, perché la gente tante volte vede il prezzo, dice, ah, è caro, ah, no, mi conviene andare da là, ma sappiate quello che acquistate, ognuno giustamente fa quello che crede più giusto, ma sappiate cosa comprate, io qui posso garantirvi la qualità, posso garantirvi veramente la purezza dell'aloe, gli altri non lo posso fare. E come dicevano tutti, come dicevano anche a me quando ero piccola, tesoro, la qualità ha un prezzo, vuoi un prodotto di qualità? È questo. Se vuoi andare sull'economia e pagare un po' meno il prodotto, ovvio, lo paghi meno, ma sai cosa c'è dentro? Detto ciò, io vi auguro una splendida giornata, un buon weekend, io rimango sempre a disposizione per qualsiasi informazione, vi ricordo che il 25 di agosto, settimana prossima, dalle 10 alle 4 circa, avrò delle porte aperte qui a casa mia, in via Molinazzo 9, per favore confermarmi evidentemente la presenza, ma più che altro perché sto offrendo un aperitivo, quindi per sapere quello che devo preparare, ci sarà tempo permettendo anche un castello gonfiabile per i bambini, così anche loro potranno divertirsi un attimino, magari noi mamme bere qualcosa e farvi chiacchiere e vedere i prodotti con calma. Io intanto vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e un bacione, ciao!